Gli anni in cui sono stato corrispondente da Bruxelles sono stati gli anni della grande speranza, forse della grande illusione, quando era presidente della Commissione Prodi, gli anni dell'allargamento, dell'euro, della nuova Costituzione. Sembrava che l'Europa diventasse finalmente un soggetto politico forte per confrontarsi con le altre grandi potenze. E poi tutto si è frantumato per la paura dell'idraulico polacco, si disse allora, e cioè per la paura dei diversi, la stessa paura che oggi fa alzare i muri all'Ungheria, all'Austria, alla Polonia, perché non vogliono accettare la loro quota di parte di accoglienza delle migliaia e migliaia di profughi che arrivano in Italia e in Grecia, come invece gli altri paesi, faticosamente, ma stanno cominciando a fare. Quello che oggi manca all'Europa è la solidarietà, il valore della solidarietà, che è stato il valore fondante dell'Europa di De Gasperi, dell'Europa di Adenauer, dell'Europa che usciva da una guerra sfiancante e che non vuole più sentir parlare di guerra. E come comunicare invece per noi giornalisti questa Europa? Denunciando chi non rispetta le regole. E non vedo perché l'Italia deve essere sanzionata per uno 0-2 del PIL che non corrisponde a quello che vogliono i fautori dell'austerity. E poi invece l'Ungheria, la Polonia, l'Austria ci si volta dall'altra parte, nel Consiglio d'Europa, perché le sanzioni è meglio non dargliele. Fa bene Mattarella, il nostro Presidente, a sollecitare queste sanzioni, proprio perché tutti devono rispettare le regole. È l'unica maniera per campare, ma non soltanto in Europa, ma anche in casa nostra.